Sopra luogo tecnico a Taverna del Re erano presenti il sindaco di Giuliano Antonio Poziello, il vice presidente della giunta regionale Fulvio Bonavitacola e il sindaco di Villa Literno Nicola Tamburrino. L'ispezione è stata messa in atto per verificare lo stato di avvio del cantiere al fine di rimuovere le prime 300 tonnellate di ecoballe, operazione che partirà il prossimo 30 maggio. I rifiuti saranno trasportati in altre regioni italiane per essere regolarmente smaltiti. De Luca non poteva farmi il regalo più bello per il mio compleanno, è quanto scritto dal sindaco di Giuliano Antonio Poziello in un post sul suo profilo Facebook. Sarà secondo il presidente De Luca una giornata storica e l'inizio della bonifica di tutto il territorio nella nostra regione. I trasferimenti successivi proseguiranno il prossimo 31 maggio e nei primi giorni di giugno. La bonifica della terra dei fuochi ha finalmente inizio.